Buongiorno, in questa parte parleremo prevalentemente di illuminatori, che è un argomento ovviamente estremamente importante in quanto produrre luce per sistemi di machine vision è assolutamente importantissimo. Bene, quindi ripartiamo, eravamo arrivati a questo slide, ripartiamo da quest'altra e procediamo. Innanzitutto qui parliamo di fotometria. Allora la fotometria che cosa descrive? Descrive un trasferimento di radiazioni da una sorgente a un sensore, però utilizzando delle unità di misura che sono state normalizzate per la sensibilità dell'occhio, quindi è molto importante questo, perché appunto sono unità di misura relative all'occhio umano, quindi non sono unità di misura assolute. E queste unità di misura sono il lux, che è un lumen al metro quadro, quindi qui la luminanza espressa in lux, cioè il lumen al metro quadro, dove un lumen, che sta per flusso luminoso, è una candela, che effettivamente è in grosso modo l'equivalente di una candela di cera, in termini di luminosità, è una candela su un steradiante, ok? Quindi su una porzione di angolo solido e si consideri che una candela emette 4 pi greca lumen, perché ci sono 4 pi greca steradianti nella sfera, ok? Se voi prendete una lampadina a incandescenza, che ormai non sono più in vendita, comunque se prendete una lampadina a incandescenza da 60 watt, standard, vedrete che emette almeno 800 lumen. Considerate anche un altro fattore importante, cioè che i led, che oggi sono usatissimi perché le lampade a incandescenza non vengono più vendute per motivi di risparmio energetico, però bisogna anche dire che le lampade a incandescenza erano completamente innocue, nel senso che non avevano problemi di inquinamento. Dopodiché per un certo periodo sono state vendute moltissimo le lampade a risparmio energetico, e ancora adesso le vendono, ma sono estremamente inquinanti perché utilizzano sostanze che se voi gettate la lampada a risparmio energetico senza disporla correttamente, inquinate in modo molto violento, tant'è che secondo me è molto più alto il danno in termini di inquinamento di una lampada a risparmio energetico gettata impropriamente di quanto non sia l'inquinamento prodotto per via indiretta da una lampadina a incandescenza, comunque vabbè, è invece completamente innocua. Bene, la soluzione un po' a tutto questo sono i led che hanno, diciamo, possono essere gettati via in modo più semplice e al tempo stesso hanno un'efficienza che normalmente è intorno ai 160 lumen al watt, quindi questo significa che se voi fate il conto, per arrivare a 800 ci vogliono a grosso modo 5 watt contro 60, quindi questo significa che il led ha un'efficienza di circa 10 volte tanto. Notate anche che l'efficienza del led è intorno al 25%, quindi significa che se voi mettete 100 watt di potenza elettrica dentro un led, 75 watt verranno dissipati in calore e 25 watt verranno prodotti, verranno utilizzati per produrre effettivamente energia luminosa. Notate che questo è un risultato già estremamente notevole, perché le lampadine standard da incandescenza sono 2-3%, quindi il 25% è eccellente. Tenete conto che si spera con i led di arrivare al 50%, il 50% sarebbe eccezionale perché vorrebbe dire che si avrebbero anche molti meno problemi di surriscaldamento, che uno dei problemi degli illuminatori industriali è portare via il calore in eccesso. Ora, se io ho 75% di potenza in calore per effetto Joule, è chiaro che la devo dissipare, ma se io ne ho solo più il 50%, ho al tempo stesso un forte aumento di luce e al tempo stesso devo faticare meno a portare via il calore. Come vi dicevo, la fotometria descrive unità di misura normalizzate per la sensibilità dell'occhio, però normalmente le camere industriali non lavorano nel visibile, ma lavorano parzialmente nel visibile, molto spesso si lavora anche un po' nell'infrarosso, per cui utilizzare solo le unità fotometriche può confondere. Quindi al posto della fotometria si usa la radiometria, che descrive l'energia o effettivamente il trasferimento di potenza. Quindi per esempio i lumen, cioè il flusso luminoso, diventano watt, cosa molto ragionevole, i lux, la luminanza, diventano watt al metro quadrato, giustamente, così come qui erano lumen al metro quadrato. Qui c'è il riferimento a un libro per cui chi di voi è interessato agli illuminatori deve assolutamente comprare, perché è praticamente l'unico libro che io sia riuscito a trovare che descrive piuttosto bene come realizzare degli illuminatori. Quindi se vi servono illuminatori, diciamo come progettarli, questo è il libro che fa Ferrocoi. Ora, a questo punto il problema è, io ho questa caratterizzazione radiometrica, ma come faccio effettivamente a calibrarla? Allora, quasi sempre, più che spesso, quasi sempre, le camere oppure i frame grabber, che ormai non si usano più, non producono una risposta lineare all'energia, per cui io devo effettuare una calibrazione. Per fare questa calibrazione si possono usare dei target di densità, un po' simili a quelli che abbiamo visto già più di una volta, gli USAF o altri, e ne esistono alcuni tarati in densità. Ovviamente serve un'illuminazione sufficientemente omogenea, però questa non è così difficile da ottenere. Notate però che i target sono normalmente lineari in densità, ma non in riflettanza, quindi conviene usarli in trasparenza. Si possono anche usare algoritmi di tipo chartless, cioè senza utilizzare questi target, variando per esempio il tempo di esposizione, quindi lo shutter. Variare il diaframma è meno accurato, perché se voi andate a misurare effettivamente l'apertura del diaframma non è mai esattamente quella nominale, mentre invece il tempo di esposizione, se l'otturatore è controllato al quarzo, e di solito lo è nelle fotocamere normali recenti, ma anche ovviamente in quelle elettroniche, il tempo di posa è estremamente preciso. Mentre invece il diaframma, di questo ne abbiamo già parlato al suo tempo, nei CCD la linearità è normalmente buona fino a circa metà della full web capacity. Infatti vi avevo detto, portate l'istogramma il più possibile a destra, ma non troppo a destra, perché altrimenti si rischia di andare fuori linearità. Diciamo che fino ai tre quarti dell'istogramma non ci sono problemi. Fino ad almeno metà è eccellente. Ora, abbiamo visto le varie unità di misura, anche se molto brevemente. Quanta luce c'è normalmente? Allora, esiste un'altra unità di misura che è usata prevalentemente in ambito fotografico, che si può convertire direttamente in lux, e sono gli EV, exposure value. Il valore standard di riferimento è 15 EV, che corrisponde alla piena luce solare, per esempio pieno sole al sostizio, ed è circa 81.900 lux. Come forse vi avevo già detto, esiste una regoletta chiamata regola del 16, per cui se io ho 100 ISO, 100 ISO normalmente per le telecamere digitali corrisponde all'assenza di guadagno, quindi guadagno unitario. Se io ho 100 ISO, il tempo di poso sarà 1 sul numero di ISO a F16, dove è F16 il diaframma. Se io sono a 200 ISO, 400 ISO, un quattrocentesimo di secondo a F16. Questa è la cosiddetta regola del 16, che usavano tutti i fotografi e funziona in pieno sole, e vi assicuro che funziona in modo eccellente. Quindi se voi state fotografando in pieno sole, naturalmente solo alle spalle, per esempio al mare, in montagna, in estate, non avete assolutamente bisogno dell'esposimetro. Prendete semplicemente la sensibilità della pellicola, oppure, quindi per esempio una macchina fotografica normale, prendete 1 diviso quello, per esempio un centesimo di seconda, F16 funziona. Questo se lo convertite a F5,6, che è un diaframma più usato negli obiettivi, diventa un millesimo perché un centesimo F16 diventa un duecentesimo F11, un quattrocentesimo F8, un ottocentesimo F5,6, rotondato poi un millesimo. Questo perché ogni volta che noi cambiamo un valore di EV, quindi passare da 15 a 16 significa raddoppiare la quantità di luce. Se noi raddoppiamo la quantità di luce, inversamente dobbiamo dimezzare il tempo di posa, oppure chiudere il diaframma. Se invece noi passiamo da 15 EV a 14 EV, vuol dire che c'è meno luce, notate che è proprio il doppio, e quindi essendoci meno luce, noi dobbiamo o raddoppiare il tempo di posa, oppure aprire maggiormente il diaframma, che ne so, passare da F5,6 a F4, ok? Quindi semplicemente utilizzando le stesse accoppiate noi passiamo da un centesimo F16 a un millesimo F5,6. Ebbene, questo è il tempo di posa che potete usare su una qualsiasi macchina fotografica, ma anche su una telecamera industriale, a patto di avere la piena luce solare. Notate che naturalmente in ambiente industriale la piena luce solare di solito non si ha, perché naturalmente si lavora in ambiente confinato. Ora, se riuscite a costruire un illuminatore capace di produrre la stessa luce del sole, siete già piuttosto bravi. In casi particolari è necessario produrre illuminatore, costruire illuminatori che producano perfino più della luce del sole. Notate che la luce del sole è molto importante, tant'è che tutti noi sappiamo che se siamo in pieno sole non riusciamo quasi a leggere, perché dà estremamente fastidio e viene appunto da mettere gli occhiali da sole per leggere, oppure di andare un po' in ombra. Quindi la luce solare è estremamente intensa, eppure in certi casi, soprattutto con telecamere lineari o accessori particolari, polarimetri e quant'altro, è importante addirittura creare più luce di quella solare, cosa non banale. Quindi veniamo dunque all'illuminazione. Veniamo dunque a quindi come costruire un illuminatore, perché noi il nostro scopo è sia usarla all'illuminazione, sia anche produrla, perché noi dobbiamo produrre luce in modo tale da facilitare al massimo il compito all'algoritmo di Machine Vision. E quindi dobbiamo sapere come è fatto l'oggetto e decidere sulla base di come è fatto l'oggetto come fare a migliorare l'illuminazione per esaltare quello che ci serve. L'illuminazione può anche essere filtrata, quindi possono esserci dei filtri. Tra questi filtri sono importantissimi i polarizzatori. vi ricordo che se voi per esempio siete al mare e avete il sole a circa, diciamo, di fronte a voi, alto nel cielo, e il mare davanti a voi, vedrete che il sole fa tutti dei riflessi sul mare, no? Vedete proprio la fila di riflessi. Ora, quella è luce polarizzata, quindi se utilizzate un polarizzatore girato opportunamente, che i riflessi spariscono. Così come se per esempio siete in casa e guardate fuori, inclinati a circa 45 gradi da una finestra, ma nella stessa stanza c'è un'altra fonte di luce, per esempio una lampadina, qualcosa, che mette luce, o anche solo qualche altra persona all'interno della stanza, voi vedrete la scena esterna, naturalmente, e poi riflessa nel vetro la scena interna. Ebbene, la scena interna riflessa nel vetro è polarizzata, di nuovo, quindi con un polarizzatore la potete tagliare via, polarizzata per riflessione, perché i vetri, e comunque in generale viene effettuata la polarizzazione per riflessione. Per esempio, se siete in alta montagna, e dico in alta montagna perché il cielo è particolarmente pulito, se siete in alta montagna il cielo è più blu perché si ha una maggiore polarizzazione della luce, infatti se voi avete degli occhiali polarizzanti in alta montagna è riuscito a ottenere un cielo che non dico che sia nero, ma quasi, il che funziona molto bene. Quindi in ambito industriale che cosa succede? Succede che voi potete illuminare l'oggetto e questo oggetto può avere dei diversi comportamenti, per esempio può polarizzare linearmente la luce, per esempio per riflessione, come fa appunto un pezzo di vetro, l'acqua, eccetera. L'oggetto può distruggere parzialmente una polarizzazione che già esiste, perché voi potreste usare della luce per illuminare l'oggetto che è già polarizzata, quindi mettere un polarizzatore subito dopo l'illuminatore. Infine, voi potreste usare polarizzatore e analizzatore per sopprimere delle riflessioni speculari. Vediamo brevemente un esempio perché è molto importante. allora, come vi dicevo, io posso avere un illuminatore, qui ho il mio illuminatore che genera un fascio di luce, ok? Questo fascio di luce io lo faccio, questa è luce non polarizzata in alcun modo, bene, allora io qua gli metto un filtro polarizzatore, dopo questo filtro polarizzatore, allora diciamo che se qui la luce è polarizzata su tutti i piani, quindi non è polarizzata, dopo essere passato da un polarizzatore con l'asse messo per così, sarà polarizzata solo per così, ok? Vi ricordo che, l'avevamo già visto, ma ve lo ricordo che un fotone, anche se dire un fotone un po' eccessivo, un fotone si propaga lungo la direzione z, oscillando su e giù, ok? E questi sono il campo elettrico e il campo magnetico, ok? Quindi lui è polarizzato perché ha una direzione di oscillazione, un piano di oscillazione, ok? Se io ho tanti fotoni, questi fotoni tipicamente uno sarà così, uno sarà così, uno sarà così, eccetera, eccetera, ok? Avendo la stessa direzione ovviamente, quella la posso, diciamo, ottenere con una lente. Il polarizzatore fa sì che se io, prima del, supponiamo che qui si sia il polarizzatore, io faccio incidere tanti fotoni, alcuni sono messi così, altri così, altri così, eccetera, eccetera, se il polarizzatore lo metto con l'asse in questo modo passeranno solo i fotoni polarizzati in questa maniera, e gli altri in realtà verranno parzialmente raddrizzati, ok? Bene, a questo punto io metto un qualche oggetto, poi qui vado a mettere il mio schermo, ok? La mia macchina fotografica, quello che vogliamo. Quindi, per esempio, ecco, e qui c'è la pellicola, bene? Ora, questo significa che l'oggetto, supponiamo che sia trasparente, come si diceva prima, può non alterare in alcun modo la polarizzazione, e quindi qui otterremo di nuovo luce polarizzata in questa maniera, oppure può alterarla, e quindi in questo caso otterremo, per esempio, luce con polarizzazione modificata, ok? In questo caso, se io voglio vedere questa differenza, prendo un secondo polarizzatore, che in questo caso prende il nome di analizzatore, e anziché metterlo per così, lo allineo per così. Allora, siccome se io ho un primo polarizzatore, un secondo polarizzatore, detto analizzatore, messi a 90 gradi, e se io ho della luce non polarizzata di qua, qui esce polarizzata, supponiamo che non ci sia l'oggetto, questa luce viene fermata completamente da questo polarizzatore, e qui non vedo nulla, è nero, ok? Se l'oggetto varia la polarizzazione della luce, qui avrà un angolo diverso, e quindi io vedrò qualcosa, ok? Questo funziona anche per riflessione. Quindi questo è il meccanismo di base degli illuminatori su luce e con luce polarizzata, che sono molto frequenti a livello industriale, ok? Bene, però il fatto che venga usata la luce polarizzata è solo un esempio, ok? In generale, adesso vedremo una tassonomia dell'illuminazione, cosa molto importante. Allora, vediamo innanzitutto, vedete, bright field with a diffuser. Allora, per vedere questa cosa, io vi farei vedere qualcosa di molto interessante. un attimo solo, ecco qua. Allora, adesso, allora, questo è il catalogo del Monoptix. Come vi avevo detto, il catalogo su carta c'è anche nella versione elettronica, naturalmente, però, mette tutta una serie di, diciamo, di help. Ecco, vedete, questo per esempio è l'help relativo agli illuminatori telecentrici. Io avevo parlato degli illuminatori telecentrici, guardate qui la differenza. Vedete, io qua devo vedere una bava di materiale, con l'illuminatore telecentrico, vedete come la vedo bene, e qui invece la vedo molto peggio, ok? Ok, però, per esempio, vedete, qui abbiamo illuminatore LED, illuminatore fibra ottica, tutte cose interessanti, però, quello che volevo farvi vedere molto brevemente, sono i vari tipi di illuminatore. vedete che abbiamo illuminazione diffusa, facciamo così, così si vede un po' meglio. Vedete? Illuminazione diffusa, quindi semplicemente illuminazione, illuminazione luce strutturata, quindi, per esempio, proietto un pattern di linee e punti, questo è quello che fanno alcuni programmi, alcuni sistemi per la misura, ok? Dark field, io illumino di lato, per esempio questo credo che sia il bulbo di una lampadina, poi, illuminazione incontroluce, backlight, luce polarizzata, che è quello che vi ho appena raccontato, luce diffusa assiale e luce ad anello, vedete un anello e poi anche luce direzionale. Allora, luce ad anello è un anello che viene messo attorno all'obiettivo, questa invece è una cosa molto importante, è la luce assiale, ok? Adesso vediamolo meglio, perché questa è una cosa molto importante. Allora, come vi dicevo, torniamo qua al primo, molto brevemente, vedete? Campo chiaro con un diffusore di fronte alla luce. Come vi ho detto, come abbiamo appena visto, io coso la mia fonte di luce che illumina e poi qui davanti metto un diffusore. Un diffusore cos'è? Un vetro smerigliato, per esempio, che fa sì che venga rifatto scattering in tutti i punti, per cui la luce qui, se qua c'è l'oggetto, diventa estremamente diffusa, ok? È un po' come, non lo so, la luce durante una giornata nuvolosa, non c'è più il sole, la luce arriva un po' dappertutto, e infatti, per esempio, è la luce ideale, ad esempio, per fare un ritratto, tanto per fare un esempio. Questo tipo di luce in ambito di machine vision, di solito, non va bene, però non necessariamente sempre. Poi, luce in campo chiaro, vedete che c'è il campo chiaro e campo scuro. Il campo scuro è quello che viene fatto lateralmente, cioè, normalmente tutto chiaro, tutto illuminato, mentre invece qui, normalmente, è tutto buio, quindi l'unica cosa illuminata sono i dettagli, è quello che abbiamo appena visto prima, sul catalogo di Edmon Optics. Quindi, campo chiaro, coassiale, ok? Diffusa. Allora, vediamo qua, cosa si intende. Allora, io ho il mio oggetto, per esempio, il mio oggetto, ok? Poi, io cosa faccio? Io qui ho la mia telecamera, ah, naturalmente qui la telecamera è messa, per esempio, qua, ok? E guarda l'oggetto. Io però potrei avere una telecamera messa qui, poi metto uno specchietto a 45 gradi, qui ci metto la mia sorgente di luce, che manda raggi di luce qui, questi vengono riflessi sullo specchio e finiscono sull'oggetto. Questo specchio è semiriflettente e quindi io riesco a vederci attraverso, ok? Questo si chiama assiale, perché la luce agisce sullo stesso asse dell'obiettivo della telecamera. Però è diffusa, perché qui, per esempio, c'è un diffusore, quindi questo fa sì che questi raggi non siano paralleli. Questa è una cosa molto importante, perché in alcuni casi non è accettabile. Poi, vedete, campo chiaro, coassiale, quindi come questa, telecentrica. Vediamo cosa vuol dire. Allora, è del tutto analoga a questa. Io ho una cosa fatta così, sempre la mia telecamera, il mio specchio. Poi, qui ho dei illuminazioni a raggi paralleli, ok? Questa mi finisce qua e mi rimbalza ed è esattamente fatta in questa maniera, ok? Quindi questa è luce telecentrica. Quindi io, è sempre coassiale, perché qui c'è l'asse dell'obiettivo, però qui i raggi sono strettamente paralleli. Questo è il sistema che si usa di solito per individuare piccoli oggetti, quello che abbiamo visto prima della bava di metallo. Poi, illuminazione in controluce. L'illuminazione in controluce si usa molto spesso, perché può essere, diciamo, diffusa oppure telecentrica. Vedete? Quindi, ovviamente, questa qui, l'illuminazione non è in controluce, ma io potrei fare, per esempio, questa è sempre la mia telecamera, io qui metto l'oggetto e poi di qui produco della luce, ok? Non ho più bisogno di utilizzare lo specchio, perché, vedete, questa è luce, in questo caso, telecentrica, quindi perfettamente parallela, oppure potrei mettere una sorgente di luce diffusa di vario tipo e quindi qui chiaramente i raggi non sono più perfettamente paralleli, ok? E infine, come si diceva prima, il dark field. Tutti questi sono cosiddetti a campo chiaro, bright field, perché normalmente la scena è chiara, ok? E i dettagli sono un po' più chiari degli altri. Invece, nel campo scuro, io ho la mia telecamera, poi io ho il mio oggettino, ok? E l'illuminazione la mando rigorosamente di lato. Quindi, se non c'è l'oggetto, è tutto nero. Si vede qualcosa solo quando c'è l'oggetto. Per esempio, questo sistema si usa, ad esempio, nei microscopi, per vedere le cellule, perché, siccome le cellule, o comunque gli organismi viventi, sono fatti quasi completamente d'acqua, ovviamente, il loro indice di rifrazione è molto simile a quello dell'acqua e quindi, visto in campo chiaro, si vedono poco o niente. Invece, con questo tipo di illuminazione, si esaltano molto, molto di più. E l'avevamo già visto sul De Pliang del Moon Optics, ok? Quindi, qui ci vuole, ovviamente, un anello di LED, perché, naturalmente, io qui devo sostanzialmente costruire un anello di LED che mandi la luce in tutte le maniere, da tutti gli angoli. Notate che, per fare un bel lavoro, questi LED devono mandare luce telecentrica, cioè perfettamente parallela, ok? Per ottenere il lavoro migliore. Bene, andiamo avanti. Quindi, illuminazione telecentrica, l'abbiamo appena vista, quindi anche per l'imaging, scusate, come per l'imaging, l'illuminazione può essere prodotta con reggi paralleli, ok? Quindi può essere molto utile per l'illuminazione, retroilluminazione, cioè in controluce, oppure per l'illuminazione coassiale telecentrica, cioè, vedete, questa, quindi, molto comoda per questa, oppure per questa, ok? un illuminatore telecentrico tuttavia è molto costoso e richiede ovviamente una lente frontale più grande dell'oggetto, che ovviamente prevede un mucchio di problemi in merito. Volevo soltanto rifarvi vedere una cosa. Allora, vedete che qui noi abbiamo, vedete che questo, come vi dicevo, è il dark field, vedete, illustrato in questa maniera, questo invece è il backlight tradizionale, ok? E questi sono i vari altri. Però, volevo ancora soltanto farvi vedere un attimo l'illuminazione, ah, ecco, questa è la luce strutturata, ok? E, di vario tipo, vedete, una linea, un reticolo, delle rine, insomma, c'è un po' di tutto. Si può ottenere normalmente prendendo un laser o un led e poi mettendogli davanti una lente apposita con un reticolo opportuno. Volevo però soltanto farvi vedere gli illuminatori telecentrici sono un attimo, eccoli qua. Allora, vedete, questo è il principio che vi ho già raccontato ma ve lo faccio rivedere molto brevemente. Vedete, vedete, questo è l'illuminatore, non è una lente di ripresa, un illuminatore. Qui c'è il mio oggetto e questi sono tutti i raggi paralleli, altrimenti con l'illuminazione diffusa questo fa scattering e non vedo bene i bordi. Vedete, questi per esempio sono illuminatori telecentrici che come potete vedere hanno dei costi elevatissimi perché naturalmente dipende anche dalla dimensione e qui c'è la dimensione. Per esempio, vedete che questi in realtà sono piccolini, ok? Però ce ne sono anche i più grandi, un attimo solo. qui non riesco a trovarli qua ma comunque non è un problema. Comunque voi immaginate che così come ci sono gli obiettivi telecentrici che forse non avevamo visto, eccoli qua, vedete, questi erano gli obiettivi telecentrici da montare sulla macchina fotografica, vedete? E quindi vedete che non avevano più, vedete questo era il problema che avevamo visto anche dal vero nell'esperimento che qui non si vede e ah guardate questo è esattamente lo stesso esperimento che avevo fatto io e le lenti telecentriche sono molto molto costose guardate qua per esempio questa è una lente telecentrica che come potete immaginare ha un costo molto elevato se ci andate non so se si riesce a leggere qui parliamo di 4500 euro è una lente che ha un diametro frontale di 100 mm ok questa per esempio è da 110 mm ok quindi comunque sono lenti telecentriche però la lente telecentriche ovviamente non è per un illuminatore ma è appunto per una lente per montare su di un obiettivo bene a questo punto possiamo procedere però prima di procedere volevo farvi vedere un oggetto perché vi ho parlato di illuminatori telecentrici allora proviamo a progettarne uno ok che è quello che dovrete fare se vi occuperete di questo tipo di lavoro allora supponiamo di voler io ho la mia telecamera piazzata qua poi io qui ho il mio oggetto ok a questo punto io voglio costruire un illuminatore diciamo il tipo più raffinato di illuminatore quindi un illuminatore corsiale telecentrico quindi qui metto lo specchio questo si chiama beam splitter perché è uno specchio di quelli che usano nei film polizieschi sapete per le sale di interrogatori quindi è al 50% quindi fa passare solo il 50% di luce notate che il giochino della sala interrogatori è che la sala interrogatori deve essere chiara mentre la sala dall'altra parte deve essere buia perché altrimenti voi dalla sala interrogatori vedrete le persone dall'altra parte comunque perché ovviamente la lente è bidirezionale comunque lasciamo perdere questi dettagli qui noi abbiamo il nostro specchio a 45 gradi qui abbiamo un illuminatore telecentrico come facciamo a fare un illuminatore telecentrico? prendiamo una lente così qui mettiamo un led questo led manda luce se questo led è messo a una distanza qui pari al fuoco questi raggi escono paralleli rimbalzano sullo specchio e finiscono qua ok? poi dall'oggetto vengono riflessi tornano indietro e finiscono sull'obiettivo notate che questo obiettivo non è telecentrico e questi raggi non sono più paralleli perché quando la luce colpisce l'oggetto viene scatterata ok? e quindi non è più per nulla parallelo allora però c'è un dettaglio questa luce qui il 50% di questa luce va giù ma il 50% della luce procede così ok? allora voi che ci fate con questo 50% di luce perché poi questo cosa lo dovete costruire allora per esempio voi potreste fare un oggetto fatto in questa maniera che tenga tutto assieme però se qui voi fate una parete questo 50% di luce colpisce questa parete rimbalza indietro quindi fa così rimbalza indietro ovviamente non tutta rimbalza indietro finisce di nuovo sul beam splitter metà di questo riflesso finisce nel led e non succede niente ma un'altra metà torna su e va a confondersi con la luce riflessa dell'oggetto per cui voi vedete un effetto fantasma sgradevolissimo quindi questo significa che questa luce qui va soppressa in qualche maniera ok deve essere fatta sparire quindi qui ci deve essere quello che è chiamato in elettronica un adattamento di impedenza deve andare a infinito deve scomparire ok allora io per farla scomparire dovrei mettere qui un rivestimento tale che assorbe completamente la luce ora tali rivestimenti non esistono perché anche se voi mettete un vellutino o qualcosina riflette sempre allora di solito in questi illuminatori si mette la cosiddetta trappola di luce cioè si mette un oggetto costruito in questa maniera vedete qui si mette una pendenza 45 gradi e poi se ne mette un'altra così e un'altra così si fa una specie di scatola laterale allora cosa succede? succede che questa luce finisce qui qui non c'è nessuna parete rimbalza qui finisce qui qui adesso non l'ho disegnato tanto bene rimbalza di nuovo qui rimbalza di nuovo qui torna indietro rimbalza e finisce nella telecamera allora vedete che deve fare 1, 2, 3 una serie di numeri di riflessioni ok ora se io qui ci metto del vellutino che fa che riflette soltanto una parte piccolissima diciamo l'1% ok dopo 3 passaggi diventa 1% 1 su 10.000 1 su 1.000.000 ok quindi la luce che poi torna indietro è una frazione assolutamente risibile questa si chiama trappola di luce light trap e viene usata negli illuminatori ora voi direte questo illuminatore è un oggetto un po' strano ebbene in effetti si è un oggetto un po' strano ma viene realizzato e noi per un progetto ne abbiamo realizzato proprio uno e adesso ve lo mostro è stato realizzato con la stampante 3D allora guardate com'è fatto allora vedete che questa è la trappola di luce ok esattamente come è disegnata qui nel no quindi qui c'è la trappola di luce poi di qui c'è la telecamera che guarda ok la telecamera guarda per di qua esattamente come questa telecamera qua poi qui in mezzo c'è il qui in mezzo c'è lo specchio scusate ma mi sono sporca qui in mezzo c'è lo specchio che è messo per così come lo vediamo questo specchio questo si smonta vedete il beam splitter c'è un po' di polvere sopra ma niente di grave ok notate che il beam splitter se volete lo potete togliere perché è solo appoggiato qui vedete che infatti ha un invito che permette di evitare che si sposti quindi qui c'è la trappola di luce quindi la luce finisce lì si viene ingabbiata nella trappola di luce esattamente come avviene qua ok poi da sopra invece di qua c'è la telecamera che guarda giù e vedete che lì sotto vedete che qui c'è l'oggetto che io devo fotografare che viene appoggiato lì ok da questa parte c'è la produzione della luce allora vedete che qui c'è il led con il dissipatore perché stiamo parlando di potenze elevate questo poi è stato montato in modo tale da poter essere spostato perché io in questo modo in realtà qui sopra ho più led un led bianco un led verde un led ultravioletto per gestire per far sì che l'alimentatore sia molto flessibile ora questo led viene messo nel fuoco di una lente che è messa qua esattamente come questa lente qua ok e questa lente qua adesso ve la mostro la faccio vedere con la torcia eccola qui vedete la lente anche quella un po' di polvere vedete che è una lente fortemente convessa che è esattamente quella che vedete nel nel progetto ok quindi vedete è esattamente questa lente qui abbiamo il led quindi luce arriva così diventa parallela finisce uno specchio rimbalza giù torna su riattraversa il beam splitter e finisce nella telecamera la luce residua finisce nella trappola di luce e non viene in questo modo cancellata ok dopodiché io qua devo semplicemente rimontarla ed è operativa questa è smontabile perché ovviamente questo specchio va pulito spesso però questo è un dettaglio ok quindi questo è stato realizzato completamente con la stampante 3d per un progetto e questo è un esempio di illuminatore bene a proposito di questo volevo ancora farvi vedere un paio di cose questa lente non è che non è così facile da trovare perché deve avere una caratteristica ben precisa e adesso vi faccio vedere allora eccoci qua allora il problema è questo allora le lenti abbiamo già visto ampiamente hanno una loro apertura numerica se questo lo chiamiamo alfa l'apertura numerica di questa lente è n uguale n per sin alfa dove n è l'indice di rifrazione del mezzo che in questo caso è 1 perché è aria ok bene quindi questo significa che questo na è uguale a sin alfa ed è l'na della lente ma qui io ho un led ok questo led emette su un angolo ok ora il problema è questo se io ho il led il led ha un suo angolo di emissione che di solito è 140 gradi 130 140 io qui devo mettere una lente che abbia un'apertura numerica tale da accoppiarsi bene con questi 140 perché se la sua apertura numerica è inferiore per esempio mettiamo che sia così che è lievemente inferiore questa parte di illuminazione è sprecata ok quindi si dice che una parte diciamo che l'apertura numerica della lente deve essere accoppiata perfettamente con l'apertura numerica del led dove con l'apertura numerica del led si intende sostanzialmente la stessa cosa quindi sinalfa che in questo caso sarebbe il seno di 70 gradi ok quindi questo significa che noi abbiamo bisogno di una lente con un'apertura numerica molto alta ora molto brevemente se noi andiamo a guardare qua ci sono delle lenti per condensatori vedete cioè lenti costruite vendute appositamente per costruire sistemi di illuminazione ok vedete e se voi andate a guardare vedete qui ci sono i diametri perché ovviamente per gli illuminatori servono anche lenti molto grandi e in particolar modo ci sono tutti i parametri ma se voi andate a prendere quelle a più alte prestazioni per esempio queste vedete c'è proprio scritto alta apertura numerica ok addirittura con design asferico quindi in grado di controbilanciare l'aberrazione sferica se vedete qua vedete lenti per condensatore perché questo tipo di schema di illuminazione si chiama condensatore lenti asferiche per condensatore vedete che qui abbiamo tutta una serie di lunghezze e se non ricordo male adesso memoria non ricordo con precisione ma questa lente era un 75 mm di diametro e aveva un'apertura numerica vedete di 0,75 ok e queste erano le sue caratteristiche vedete che costano cinquantina di euro una cifra del genere e come potete vedere ci sono anche tutta un'altra serie di lenti tutte lenti per condensatore quindi sono lenti queste che non hanno una qualità sufficiente per costruire degli obiettivi ma vengono usate appunto per costruire vedete ce ne sono moltissime vedete queste invece sono lenti non più da condensatore sono vere e proprie lenti e quindi sono lenti che servono appunto per costruire questo ok lì era 0,75 ok quindi questo significa che il seno di alfa deve essere 0,75 per quella lente quindi viene sin alfa uguale 0,75 adesso noi prendiamo la calcolatrice e andiamo a vedere quant'è questo angolo vedete che mi viene fuori allora io adesso calcolo l'arcoseno di 0,75 e mi vedete che mi viene fuori 48,59 facciamo 50 ok ora quindi questo significa che questa apertura questa lente ha un'apertura numerica in grado di reggere un angolo qui pari a circa 100 gradi quindi probabilmente non era questa probabilmente ne avevo scelta un'altra perché perché ovviamente i led di solito non emettono a 100 gradi emettono almeno a 120 o anche 130 gradi quindi questo significa che se l'apertura numerica della lente non riesce a catturare tutta la luce che produce il led una parte della lente della luce come vi dicevo è sprecata ok questo è un concetto di fondamentale importanza nel caso degli illuminatori e lo vedremo tra poco quando parleremo di un parametro che si chiama etendue che in francese significa estensione ora però volevo ancora farvi vedere una cosa e cioè queste lenti questi bin splitter perché anche questi ovviamente li dovete comprare non sono per nulla facili da fare altrimenti allora un attimo solo ecco qua ecco vedete questi sono i bin splitter che sono esattamente quelli che ci servono vedete che ce ne sono fatti a prisma ma invece noi abbiamo preso questo è una cosa del genere notate che c'è un piccolo disallineamento ovviamente che va tenuto in considerazione vedete che ce ne sono di tipo standard polarizzanti quindi che polarizzano la luce non polarizzanti per definizione e anche di croici che diciamo dividono per lunghezza d'onda ora adesso quindi ovviamente non andiamo nei dettagli però quello che abbiamo montato lì è un plate bin splitter che dovrebbe essere non polarizzante se ben ricordo e quindi per esempio vedete che qui ce ne sono un po' per tutti i gusti e credo che quello che avevamo preso noi fosse ah notate che ce ne sono alcuni che vanno per il visibile anche per l'infarosso cioè non è non è così banale vedete questo è per l'uvì io penso che se non ricordo male probabilmente noi avevamo scelto uno di questi ok da 75 mm probabilmente era questo qui e quindi vedete un costo di un centinaio di euro circa ok quindi anche il bin splitter va diciamo scelto accuratamente quindi qui abbiamo tutti i pezzi tutto il resto in effetti è stato semplicemente disegnato e costruito con una stampante 3D ma non presenta particolari problemi qui nella trappola di luce tutto all'interno è stato messo del vellutino è stato usato per economicità quello che viene venduto nei negozi di fai da te che serve a rivestire i cassetti quel vellutino nero che va molto bene per questi scopi notate anche che qui ci sono anche altri problemini nel senso che allora qui in teoria dovrebbero uscire solo raggi paralleli però qualcosina esce sempre perché non dovrebbe per cui qui bisogna fare un minimo di barriera in modo tale che questa luce non arrivi dritta a questo ok quindi questa parte qui va in qualche maniera schermata ok giusto per mettersi dalla parte della ragione bene allora quindi stavamo dicendo questo era il progetto di un illuminatore cosa che ha una grande importanza perché naturalmente questi illuminatori possono essere realizzati molto grandi oppure anche molto piccoli per esempio sono in vendita regolarmente per le scopi industriali degli illuminatori telecentrici assiali da montare su obiettivi per scattare fotografie per scattare fotografie in ambito industriale ok quindi sono molto più piccoli di questo oggetto che abbiamo costruito qua che invece serviva per un altro scopo ok bene allora qui direi che questo l'abbiamo visto tutto possiamo andare avanti allora bene quello che vi dicevo prima era questo siamo arrivati al punto e cioè che noi abbiamo a disposizione per esempio nel caso del led un qualche fascio luminoso che deve essere raccolto completamente dalla lente del condensatore se ciò non avviene noi sprechiamo energia ora dobbiamo quindi introdurre un concetto estremamente importante che è quello di Etendu cioè di estensione questo è un concetto che è chiamato in molte maniere si può tranquillamente chiamare conservazione d'energia però vedete ottica in variante ottico in variante di Lagrange in variante di Helmholtz Etendu throughput perché ovviamente in fondo è un throughput potere di guadagno della luce e poi anche chiamato prodotto area per angolo solido ok ora come si calcola questo Etendu l'Etendu è sostanzialmente un qualcosa quindi è un'estensione una quantità che è legata al prodotto del per esempio qui abbiamo un telescopio chepleriano chepleriano quindi abbiamo una lente singola e poi questo è l'oculare che è questo il classico telescopio di cheplero che per inciso è ancora usato tutt'oggi nei telescopi a lenti è esattamente questo modello il telescopio galileiano era notare che era diverso il telescopio chepleriano era migliore però insomma funzionavano tutti e due intendiamoci infatti Galileo ha fatto a fior di cose col suo notate per vostra curiosità il telescopio chepleriano all'oculare è piazzato dopo il fuoco mentre il telescopio galileiano ha una lente qui divergente non convergente piazzata prima del fuoco però insomma questo è un dettaglio il problema è che il chepleriano funziona meglio perché l'immagine si vede meglio però questo è un altro discorso e allora se noi abbiamo questo schema no vedete che questo schema prende delle luci che arrivano da infinito per esempio delle stelle e le fa convergere nell'occhio ora per esempio supponiamo di guardare la luna la luna ha un angolo qui sotteso di 30 primi mezzo grado ok e il tutto entra attraverso un telescopio che per esempio è da 100 mm ok quindi ho mezzo grado e 100 mm in uscita io avrò una pupilla d'uscita che per esempio potrebbe essere di 2 mm e questo angolo anziché essere di 30 primi cioè di mezzo grado qui è molto più grande può essere per esempio di 50 gradi ok ora cosa dice perché questo perché io ho ingrandito la luna ovviamente se no cosa servirebbe questo telescopio ingrandisce quindi se qui era 30 primi qui è diventato 30 gradi ok e quindi vuol dire che è ingrandito 60 volte perché 30 primi mezzo grado e se qui è 30 primi e qui è 30 gradi vuol dire che è ingrandito 60 volte 60 volte per un telescopio è un ingrandimento modesto tutto sommato ok quindi questo significa che se io ho 30 primi che è un angolo abbastanza piccolo ma qui ho 100 mm da questa parte avrò 2 mm con 30 gradi ora siccome voi capite chiaramente che l'energia non si può creare ok questo significa che le tendi 1 non è alto che la conservazione del flusso quindi noi abbiamo i 100 mm moltiplicati in qualche maniera vedete c'è il seno quadro eccetera eccetera notate che questa formula è importante la dovete sapere all'esame dovete saper spiegare perché quindi allora voi avete il diametro per esempio 100 mm moltiplicato per ω in che in realtà è il seno quadrato di ω in e anche questo è al quadrato e questa è un qualcosa e questa è una costante che quindi si deve riprodurre anche da quest'altra parte qua quindi a questo punto se io riduco molto la pupilla d'uscita quindi il diametro in uscita è maggiore inevitabilmente omega out cioè questo angolo deve diventare più grande qui non si vede dal disegno però questo angolo qui diventa molto più grande cioè in sostanza io ho una specie di trade off di compromesso tra l'angolo e la dimensione quindi se io ho una dimensione grande supponendo di avere un certo valore di tendu io posso passare da una da una lente grande con un piccolo angolo a una lente piccola cioè una una pupilla piccola con però un angolo grande ok voi direte cosa me ne faccio di questo adesso lo vediamo e in realtà è molto importante però in generale questa formula è molto importante quindi le tendu vedete che il diametro di ingresso al quadrato per il seno al quadrato dell'angolo sotteso deve essere uguale perché c'è una conservazione al diametro in uscita quindi la pupilla d'uscita al quadrato moltiplicato per il seno dell'angolo che vede l'occhio messo in questa posizione ok notate che questa pupilla d'uscita è quella che se per esempio avete un binocolo e lo puntate contro un foglio di carta bianco giusto anche a un metro di distanza insomma anche da vicino non c'è problema non dovete guardarlo vedrete che guardando gli oculari dove si mettono gli occhi vedrete un dischettino tondo quel dischettino tondo è il fascio di luce che esce dal binocolo ed è chiamata pupilla d'uscita quella pupilla d'uscita è l'equivalente della pupilla d'entrata che è questa perché questa è la pupilla d'entrata e questa è la pupilla d'uscita quindi voi capite che il binocolo cosa fa? passa da per esempio che in fondo è un pezzo di un telescopio doppio il binocolo cosa fa? passa da 50 mm della lente frontale a 2 mm della lente d'uscita quindi 25 volte quindi comprime 25 volte la luce cioè il diametro però per questo principio di conservazione comprimendo questa estensione voi dovrete estendere l'angolo che per inciso è proprio quello che volete perché voi guardate un oggetto lontano che sottende un piccolo angolo e qui diventa che sottende un angolo grande in questo caso ci torna comodo quindi diciamo che noi possiamo anche vedere perciò le tendu come il prodotto dell'angolo solido della pupilla d'uscita vista dall'immagine quindi questo ok perché se voi guardate il binocolo dalla lente frontale e supponendo di avere qualcosa qui da poterlo vedere voi avrete lo vedrete con quest'angolo e questa dimensione quindi per l'area dell'immagine che è questa oppure in alternativa può essere visto come il prodotto dell'area quindi della pupilla d'uscita e l'angolo proiettato dell'immagine che arriva di qua e viene vista dalla pupilla d'uscita insomma questa formula ok quindi questo è le tendu può essere chiamate in tante maniere però questa è la formula importante in generale la cosa veramente importante è capire che c'è una qualche conservazione dell'energia luminosa per cui se voi volete passare da un angolo piccolo a un angolo grande dovete pagare pregno pagare pregno in dimensioni dell'immagine della pupilla ok ora se voi avete una qualche sorgente no se voi avete una qualche sorgente le tendu della sorgente quindi lo potete vedere anche qui come la moltiplicazione della dimensione della sorgente per il per l'angolo da cui emette ok deve essere la stessa o lievemente più grande delle tendu della lente del proiettore che è esattamente quello che vi facevo vedere qua no se io qui ho il led le tendu della lente deve essere uguale o magari lievemente maggiore di quello del led mentre qui invece vedete che è quello del led che è lievemente maggiore siccome la luce in questo caso procede per così perché è il led che illumina questo significa che una parte delle tendu del led va sprecata e quindi voi state sprecando potenza perché è come se voi aveste non lo so ecco mettiamola così voi avete un tubo da cui esce dell'acqua e poi voi lo fate volete assolutamente farlo finire in un tubicino più piccolo senza raccordarlo in nessun modo risultato tutta quest'acqua qui viene sprecata e non potete neanche raccordarlo come si potrebbe fare con un tubo perché cosa succede voi sapete che in questo caso se io faccio un raccordo del genere qui aumenta ovviamente la velocità dell'acqua peccato che noi non possiamo fare una cosa del genere con la luce e quindi non c'è modo quindi le tendu qui deve essere uguale alle tendu qui per cui se io se questo è un tubo più piccolo questa parte va semplicemente sprecata che è quello che succede qui con questo qui è poca e per quello che dicevo 100 gradi mi sembra strano di aver scelto quella lente perché 100 gradi significa che siccome il led emette a 130 140 io spreco tutta questa potenza del led che ovviamente è sprecata per sempre ok notate anche che se voi mettete degli elementi in grado di polarizzare o di tipo diffrattivo il l'etendu viene incrementato ma questo è un dettaglio che non ci interessa in questo caso quindi vedete che se io ho l'NA quindi l'apertura numerica dell'illuminazione deve matchare cioè deve essere perfettamente uguale per quanto possibile all'NA della lente di proiezione se possibile la lente di proiezione deve essere deve avere un'NA lievemente superiore in modo tale da accogliere come si deve la luce del led ok notate che se io ho un certo attendu non lo posso far ridurre ok a meno di buttare via luce se butto via luce chiaramente lo posso fare però altrimenti non lo posso fare e devo fare un trade off continuamente tra area e angolo solido ok notate anche che se io potessi ridurre l'etendu sarebbe una meraviglia siccome l'etendu come vi dicevo è la moltiplicazione sostanzialmente del diametro per l'angolo se riuscissi a ridurlo potrei permettermi di illuminare per esempio da lontano usando un flusso molto concentrato ok cosa che invece di solito non posso fare quindi sarebbe utile in ordine al fine di ridurre di out senza essere costretti ad incrementare omega out perché vedete se io incremento aspettate un attimo che qui devo aver fatto un po' di pasticci ecco se io incremento il se io ho unetendu ampio e purtroppo quello è dovuto alla mia alla struttura del mio sistema posso farci relativamente poco e cosa succede? succede che io sono obbligato appunto come in questo caso a compensare questa dimensione con questa e quindi aumento l'angolo adesso lo vedremo meglio in un esempio che vi ho preparato che dovrebbe essere più chiaro allora per esempio facciamo due esempi tecnici il laser ok allora il laser innanzitutto come funziona un laser parliamo dei laser allo stato solido naturalmente perché sono quelli che sono più diffusi oggi ok allora un laser allo stato solido adesso qui è un dispositivo ok di un qualche tipo che sostanzialmente qui prevede due specchi quindi qui viene generata della luce la luce rimbalza tra gli specchi la distanza tra gli specchi è opportuna in modo tale da generare interferenza e in questo modo passa solo alla luce della lunghezza d'onda giusta questo è il meccanismo del laser dopodiché qui c'è un piccolo forellino da cui esce la radiazione coerente ok questo veniva fatto una volta con dei tubi laser ma oggi viene fatto con dei dispositivi quindi questo oggetto in realtà è piccolissimo il forellino da cui esce è di pochi e dell'ordine dei per esempio 10 micrometri anche meno piccolissimo da questo forellino esce luce che però non è focalizzata in nessun modo esce luce così e in particolar modo quest'angolo nei laser che potete comprare è di 30 gradi quindi il laser il diodo laser che comprate non produce assolutamente un fascio laser quello classico ok produce un fascio con un'apertura di 30 gradi che non è come il led che lo produce di 120-130 però comunque non è certo puntiforme ok però esce da un forellino microscopico allora io però che cosa vorrei ottenere qua io vorrei ottenere un fascio sottilissimo cioè concentrare tutta questa roba in un fascio piccolissimo allora se io adesso prendo una lente e la metto qua vedete che io prendo questi 30 e quindi il mio fascio laser diventerà grande come la lente supponendo che la lente qui abbia il fuoco ok ok però a questo punto io ho un fascio che non è un millimetro enorme ok allora io cosa posso fare posso prendere una lente che abbia la stessa apertura numerica che vi ricordo che è il seno di alfa perché è n1 e quindi io posso prendere una lente che abbia la stessa apertura numerica ma sia molto più piccola quindi io ho il mio dispositivo con il punto che mette e poi qui ci metto una lente microscopica però con la stessa apertura numerica allora questa mi raccoglie i dati da 30 gradi e poi mi produce un fascio che è molto sottile per esempio un millimetro ok quindi questo significa che io trasformo pochi micron moltiplicati per quest'angolo ok il prodotto deve rimanere costante quindi io cambio quest'angolo in un angolo piccolissimo perché l'angolo di apertura del fascio laser è veramente piccolo talmente piccolo che il fascio laser comincia a aprirsi dopo centinaia di metri quindi veramente piccolissimo vicinissimo a zero quindi io ho un angolo piccolissimo e in cambio devo aumentare questa dimensione perché il rapporto è quello però siccome questa è talmente piccola dell'ordine dei micron io fino ad un millimetro ci posso arrivare senza nessun problema questo è il motivo per cui il classico fascio laser del puntatore verde o rosso che più o meno tutti noi abbiamo ha uno spessore di 1-2 millimetri e al tempo stesso è in grado di arrivare senza cambiare la sua dimensione anche a un chilometro di distanza ok questo perché l'Etendiu me lo permette ok e questo è l'esempio classico facciamo un altro esempio abbiamo il sole no il sole il sole è l'esempio opposto perché il sole è talmente lontano che emette raggi paralleli ok e quindi emette raggi quasi paralleli perché in realtà il sole però insomma diciamo che sono quasi paralleli allora se sono quasi paralleli ma sono su una superficie in teoria enorme perché tutta la luna tutta la terra è illuminata con raggi paralleli allora io cosa posso fare posso prendere una lente molto grande ok in modo tale da raccogliere più luce che posso dopodiché questa lente io voglio trasformare questi raggi che sono tutti paralleli e quindi hanno un ingresso non è focalizzato se io ci metto una lente messa per così qui io posso focalizzare tutte queste energie in un punto allora cosa significa anche qui avrò il mio etendue perché io avrò in ingresso un angolo piccolissimo con una lente enorme ok qui avrò in uscita un angolo molto più grande omega out con però un punto piccolissimo quindi l'etendue è conservato solo che in questo caso noi riusciamo aumentando molto quest'angolo a rendere piccolissima quest'area e se la rendiamo molto piccola ovviamente concentriamo moltissimo l'energia ora qual è il limite di questo sistema il limite di questo sistema è quando io ovviamente ho la lente con l'apertura numerica più grande possibile perché vi ricordo che questo sin alfa è sempre l'apertura numerica della lente ora che cosa succede succede che se io concentro tantissimo la luce quindi vuol dire che questo lo avvicino tantissimo l'apertura numerica aumenta tantissimo e naturalmente ci sarà un limite e il limite di questa cosa sarà per cui se io ho una lente sufficientemente grande io andrò a tendere verso il limite ad avere qui la stessa densità di energia che c'è sulla superficie del sole ovviamente non ce la farò mai ma io in teoria avendo una lente infinitamente grande raccogliendo tutti questi raggi paralleli qui riuscirò a concentrare talmente tanta energia da arrivare qui a 6.000 kelvin che è la temperatura del sole perché io sto prendendo luce dal remoto ora questo significa che io senza arrivare a 6.000 kelvin però per esempio qui posso arrivare tranquillamente a 200 gradi centigradi e infatti come abbiamo visto con la lente di Fresnel che ha un'apertura numerica molto elevata per come è costruita anche se la qualità non eccezionale cosa succede succede che io qui ho un'apertura numerica così elevata che mi posso permettere qui di concentrare l'energia così tanto che se vi ricordate dalla foto prende fuoco da cui l'espressione metterà fuoco quindi se prende fuoco vuol dire che qui siamo tranquillamente a un 200-300 gradi e considerate che qui siamo ancora molto lontano dal limite teorico che potrebbe essere 6.000 gradi perché è la stessa densità di energia che c'è sulla superficie del sole però ripeto è un limite teorico comunque teorico no questo è il caso estremo in cui abbiamo una sorgente aperta ma molto piccola che riusciamo a far diventare sottile un po' più grande cioè un po' più spessa ma molto ben allineata qui abbiamo una sorgente molto ben allineata che riusciamo a concentrare quasi in un punto a patto a patto ovviamente di incrementare moltissimo quest'angolo ok ebbene quindi che cosa succede succede che in questo modo noi in questo caso con il sole possiamo usare questo sistema per aumentare tantissimo la concentrazione dell'energia e questo se voi ci fate caso è quello che usate nei cosiddetti CPC cioè compound parabolic concentrator che sono i concentratori che vengono usati nelle centrali solari quindi le centrali che utilizzano l'energia del sole per per esempio scaldare un fluido oppure in generale per scaldare un qualche fluido che poi viene usato per muovere una turbina ok notare che non c'entra niente con la con la generazione fotovoltaica naturalmente quindi questi sono i due esempi ok adesso però dobbiamo fare un esempio più da tutti i giorni perché questi sono due esempi estremi ma adesso noi vediamo un esempio di tutti i giorni che è l'esempio che noi abbiamo in effetti quando noi costruiamo un illuminatore perché se noi costruiamo l'illuminatore non abbiamo nel laser salvo rarissimi casi di solito il laser non si usa e nemmeno il sole ok quindi noi cosa facciamo vedete usiamo un led adesso qui lo mandiamo a tutto schermo così si vede meglio vedete noi abbiamo un led questo led non è un punto ha una sua dimensione vedete questa qui la dimensione per esempio 22 mm perché i led di alta potenza hanno un diametro non insignificante quindi noi abbiamo un led da 22 mm piazzato qua qui abbiamo la lente convessa che ha una lunghezza focale f in modo tale che il led è nella sua lunghezza focale ok o magari più o meno magari può anche essere un po' più lontano il led allora se il led è esattamente nella lunghezza focale qui uscirà un fascio di raggi paralleli altrimenti che cosa succederà succederà che questi raggi non saranno paralleli ok però questo è vero soltanto se il led è un punto ma il led non è un punto è una è un rettangolino quindi cosa significa significa che questi raggi usciranno paralleli ma messi per così questi usciranno paralleli ma messi per così qui quindi qui al centro non avremo mai un fascio di raggi paralleli perfetti proprio perché esclusivamente perché il led non ha una dimensione puntuale non è un punto quindi di nuovo qui abbiamo il nostro problema relativo all'etendu e non possiamo risolverlo quindi diciamo che per ottenere un illuminatore con una potenza piacere noi abbiamo bisogno di un punto molto piccolo che concentra una potenza elevatissima quindi abbiamo bisogno di una densità di energia nel punto elevatissima e come possiamo ottenere una densità di energia potentissima ci vuole una sorgente di energia allora il led ha una densità di energia nel punto che non è particolarmente elevata ok è più elevata del di un filamento più o meno a grosso modo di un filamento di una lampadina incandescente a incandescenza che cosa è più elevato di questo ma per esempio la lampada d'arco quella che usavano una volta per i proiettori cinematografici che è fatta usando un arco voltaico la densità di energia dell'arco voltaico è elevatissima notate che la massima densità di energia disponibile è quella di una bomba atomica anzi una bomba fusione e allora la massima densità di energia quale sarà visto che il sole è una bomba fusione è quella del sole ok e infatti per quello che noi riuscivamo ad andare così su se rimaniamo qui sulla terra la densità massima di energia la otterremo con un laser che infatti è molto piccolo e al tempo stesso è molto potente perché riusciamo ad avere dei laser molto potenti addirittura da megawatt notate che quando voi avete un laser di quella potenza qua è meglio che stiate ben lontani perché qui come ben sapete i laser di potenza sono in grado di tagliare 30 mm di acciaio al volo quindi senza nessun problema quindi se ci mettete il dito lì non è questione che va a fuoco non trovate più niente bene questa però questo schema così semplice e al tempo stesso così complicato è nient'altro che la torcia ok quindi infatti il searchlight significa torcia quindi quindi una torcia produrrà un'illuminazione uniforme insensibile alla posizione in questa parte gialla ok gialla quindi molto piccola e l'angolo alfa che è questo qui ok sarà lo stesso qui e qui quindi l'angolo perché è relativo al l'tendu ok perciò questo significa che all'interno della regione gialla voi avrete sostanzialmente un diciamo una sorgente una zona in cui l'irradianza è insensibile alla posizione sia lateralmente che anche longitudinalmente è abbastanza perfetto questo questo sistema e l'angolo alfa è lo stesso e all'interno della regione gialla se voi guardate il led se voi metteste qui dentro e guardaste il led vedreste la sorgente cioè il led apparire come un disco circolare visto a infinito che sottende un angolo alfa ok comunque in generale questo significa che se noi abbiamo una torcia abbiamo diciamo una zona in cui l'illuminazione è uniforme ok questo angolo questo semiangolo qui theta è quello tale per cui l'NA l'apertura numerica di quel led e della insomma del sistema della lente deve essere la stessa dell'apertura della luce della sorgente che è quello che abbiamo visto prima notate che normalmente un led è 120 gradi più o meno 60 ok ora quindi qui ne abbiamo messo il led esattamente nel fuoco quindi noi dovremmo in teoria avere un fascio parallelo perché non abbiamo un fascio parallelo come vi dicevo non abbiamo un fascio parallelo perché allora se voi qui abbiamo la lente ok e qui abbiamo il led il led fa una cosa del genere e i raggi sono tutti paralleli e peccato però che come dicevo quindi qui funziona ma se voi guardate questo disegno qua vedete che non è così perché non è così non è così perché il led in realtà non è un punto e allora cosa succede succede che questo qua a sua volta no e viene una cosa del genere questo lato qui fa così e produce una cosa così da cui questa è l'area gialla e questi sono quindi poi qui voi avete ovviamente la vostra parte centrale e poi qui voi avete un bordo se voi guardate usate questa torcia per illuminare il muro vedrete una zona centrale illuminata abbastanza bene che è questa questa non la vedete perché è molto vicina e poi attorno vedete un alone e questo alone qui è questo che man mano che vi allontanate diventa sempre più grande ok bene allora io qui volevo però farvi vedere questa cosa dal vero perché secondo me è molto più convincente allora come facciamo allora guardate qua allora prendiamo una torcia comprata su amazon ok allora vedete che questa torcia fa luce giustamente questo è l'angolo con cui fa luce però questa è una torcia abbastanza carina molto raffinata allora vedete che qua questo pezzo si smonta questo è a tutti gli effetti un e questo esattamente questo allora noi abbiamo qui il led vedete che si vede abbastanza bene vedete il led è quadrato anche una sua lentina davanti però questa torcia ha una particolarità vedete che questo pezzo può andare su e giù ok dopodiché qui ha un filetto e qui vedete che questa è una lente che è piano convessa ok quindi è fatta quindi se noi vogliamo replicare questo sistema con precisione allora qui noi abbiamo il nostro led e poi qui abbiamo una lente che è fatta così sto un po' esagerando ok questa lente può andare su e giù allora quando la lente sarà nel fuoco scusate quando il led sarà nel fuoco della lente qui usciranno dei raggi paralleli come dicevamo però c'è un problema che il led non è perfettamente puntiforme vediamo che cosa succede allora vedete che io qua questa la posso regolare molto bene allora io lo avvito ok adesso guarda innanzitutto guardate l'apertura cioè l'apertura numerica del led io adesso questo lo accorcio al massimo e poi accendo vedete vedete che ha un angolo elevatissimo adesso io qua lo tolgo così si vede meglio vedete che ha un angolo di raggiamento elevatissimo ok adesso io gli rimetto la lente davanti poi lo metto vedete alla minima distanza e faccio così vedete che è diventato meno ok ma io adesso cosa faccio sposto in avanti la lente quindi muovo questa lente in avanti se io muovo in avanti la lente vedete che il campo si restringe giustamente ok si restringe notate che siccome lui si sta restringendo io non riesco più a prendere tutto l'etendu perché la lente si sta allontanando e vuol dire che ne perderò un po' ok e infatti vedete che io qui ho dei riflessi che sono dovuti all'etendu rimanente che viene perso in qualche maniera però ciò non togli che io vedete che sto concentrando la luce vedete questi sono tutti i residui dovuti all'etendu che sto perdendo però io volevo farvi vedere anche un'altra cosa adesso messa così è a infinito quindi vuol dire che qui siamo esattamente in questa posizione ok quindi siamo effettivamente nella posizione di questo tipo ora nel senso che qui stiamo diciamo abbiamo la lente nel fuoco ok l'etendu non è ottimale ok benissimo allora adesso io però volevo farvi vedere una cosa allora uso questo perché ha un colore un po' diverso adesso vedete che qui è al massimo adesso io mi allontano adeguatamente perché se no non ce la fa ecco guardate vedete ora siamo a una distanza di circa un metro poco più di un metro allora adesso se voi ci fate caso quello altro non è se non il led noi stiamo sostanzialmente guardando fortemente ingrandito il led quelli sono tutti i die vedete perché è un led multi die e quindi vedete tutti i vari pezzi del led tutti i vari die se io adesso sposto la messa a fuoco vedete che si sfoca perché è come se io stessi proiettando vedete si sta semplicemente sfocando e ovviamente aumenta l'apertura vedete che si sfoca diventa sempre più grande e quant'altro ok ora ho usato il fondo di cartone perché se no non si vedeva bene quindi questo significa che quella torcia è costruita con una lente che quando il led è nel fuoco produce raggi paralleli e quindi sostanzialmente riproduce un'immagine del led fortemente ingrandita ok dopodiché che cosa succede e se io invece questa l'avvicino di più ovviamente questo angolo diventa più grande ovviamente a scapito della densità di energia notate anche che il l'etendiu di questa lente con ogni probabilità non è progettata accuratamente per cui quando io mi allontano per ottenere il fuoco infinito quindi per ottenere l'equivalente del laser ovviamente perdo un po' di potenza del led e ora è pazienza notate anche che mentre nel led questo fascio è di un millimetro o giù di lì qui questo fascio è molto grande perché se ricordate dall'immagine era una cosa grossa così quindi diciamo 6, 7, 8 10 centimetri mentre il led in origine è pochi millimetri quindi vuol dire che io ho pagato un prezzo molto elevato perché per ottenere dei raggi sostanzialmente paralleli o quasi non sono passato a un millimetro sono passato a 10 centimetri ok bene quindi allora questa era la torcia la torcia questo quello che abbiamo appena visto è vero che è una torcia ma in realtà è un esempio classico di illuminatore in cui viene regolato il sistema di messa a fuoco della lente in modo tale da ottenere un'illuminazione che è quella che noi vogliamo però bisogna fare molta attenzione all'apertura numerica ok ora questo tipo di illuminatore è chiamato normalmente condensatore e questo è diciamo l'equivalente quindi è possibile mettere il fuoco della lente alla distanza preferita che è esattamente quello che abbiamo visto con la torcia ok questa è la classica formula delle lenti 1 su P più 1 su Q uguale 1 su F e quindi vedete che questo è esattamente quello che abbiamo appena visto quindi per esempio in questo caso il led è molto più piccolo di 22 mm e questi sono i vari angoli vedete questo è il primo fuoco della lente se io allontano di più la lente perché io lì muovo la lente e non il led e io se allontano di più naturalmente questo fascio diventa più concentrato e vedete che io in questo caso in quel caso avevo il fuoco a un metro un metro e mezzo mentre se io voglio quindi sono addirittura più in là quindi qui io mi sono portato più in là del fuoco ok se io mi porto proprio sul fuoco qua mi viene fuori un raggio parallelo e quindi in teoria è focalizzato a infinito quindi quella torcia mi permette di effettuare una regolazione piuttosto raffinata ora per finire questo argomento questo tipo di illuminazione viene usata per esempio in moltissimi sistemi di illuminazione per esempio nei microscopi allora vi sono sostanzialmente due sistemi di illuminazione uno è quello di Abbe Abbe è ovviamente famosissimo perché è stato lui che ha individuato la teoria di Abbe quella che vi ho raccontato in quell'esperimento ebbene nel caso di Abbe l'immagine della sorgente di luce viene messa direttamente sulla parte illuminata e non funziona tanto bene in generale perché si vede il dettaglio per esempio del led esattamente come abbiamo appena visto quindi questo richiederebbe una sorgente di illuminante uniforme quindi per esempio vedete un frosted bulb cioè una lampada di quelle smerigliate altrimenti noi vedremo sull'illuminazione il led così come noi guardavamo il foglio di carta è vero il foglio di carta era ben illuminato ma sopra noi vedevamo la forma del led proprio la struttura del led quindi quella sarebbe Abbe invece color è quando noi creiamo l'immagine della sorgente di luce sulla lente di proiezione che in questo caso non c'è perché noi non stiamo effettivamente proiettando ma diciamo che per esempio noi potremmo farlo fare diciamo utilizzando la torcia di prima mettere la messa a fuoco un po' più distante del foglio in modo tale che si veda sfocato che non si veda più il dettaglio del led ebbene in questo caso possiamo anche usare sorgenti non uniformi per esempio il led perché il led in realtà è una sorgente per così dire uniforme perché in realtà tutti i vari dai emettono luce ma in mezzo non c'è infatti si vede la struttura ok abbe e keller sono sistemi di illuminazione che si usano nei microscopi notate che però si possono usare anche in ambito industriale perché io chiaramente non ho nessuna nessun interesse a focalizzare il led esattamente su quello che sto illuminando che sarebbe abbe perché altrimenti questa illuminazione mi darebbe fastidio e per questo che io devo usare keller ok che significa semplicemente regolare un po' la mia torcia ok cioè quando io progetto l'illuminatore spostare un po' la lente ora si può dimostrare che con sorgenti simili poi aperture numeriche del condensatore cioè della lente opportune e anche lo schermo finale opportuno con sorgente e condensatore il loro etendue come etendue in grado di limitare l'irradianza sullo schermo finale è la stessa ok quindi sostanzialmente dipende dalla sorgente di luce quindi questo era soltanto per farvi vedere come è possibile realizzare degli illuminatori che sono assolutamente indispensabili cioè se voi vi occuperete di computer vision a livello industriale avrete bisogno di illuminatori sarà indispensabile allora quello che vi ho raccontato vi serve innanzitutto per prendere un catalogo di illuminatori e capire come sono fatti e poi in casi particolari magari chi lo sa potreste doverne progettare uno per i fatti vostri e come avete visto non è neanche così difficile bene un'ultima vedete qui poi c'è la trasformata di furia che avevamo già visto un'ultimissima cosa che non c'entra in realtà con l'illuminazione però una slide che manca e quando voi fotografate un oggetto che ha una struttura tridimensionale ovviamente voi potete mettere a fuoco soltanto un piano se anche usate Shaneflug in realtà continuate a mettere sempre a fuoco un piano magari il piano è inclinato però mettete a fuoco solo un piano allora utilizzando una PSF tridimensionale è possibile ricostruire sostanzialmente un'immagine a fuoco infinito facendo tutta una serie di piani di messa a fuoco e mettendo tutto assieme questa è una cosa per cui esistono molti programmi che lo permettono che generano il cosiddetto fuoco infinito ok e in particolar modo con con il microscopio se si utilizza un'illuminazione opportuna che vada ad illuminare esclusivamente un piano si riesce a ricostruire una struttura 3D molto ben fatta ok vabbè poi ci sono vedete qui c'è scritto di guardare anche i sistemi in cui la profondità di campo a depth of field è estesa e anche i sistemi apodizzanti che sono quelli che vi avevo raccontato servire per togliere l'anello di diffrazione attorno al disco di diffrazione ok però diciamo che questo non è una cosa così importante quello su cui volevo focalizzare l'attenzione in questo blocco era appunto la costruzione e il progetto degli illuminatori ora qui c'è furia l'abbiamo già visto quindi qua ci fermiamo e poi nell'ultimo blocchettino di questa lezione vedremo quello che avanza con anche un ulteriore esperimento finale grazie